Voglio farvi vedere come dicevo questo quaderno. Se vedete io ho cercato di utilizzare più o meno una gamma di colori simile per tutti i penarelli. Ovviamente non esisto, cioè non avevo per esempio il Distress Ink Jeans del pad, ne avevo uno simile, lo Stormy ho usato quello. Ho cercato comunque di mantenere dei colori simili. In realtà c'è sempre dei blu. Perché? Perché il blu, a differenza di altri colori, ma come per esempio il rosso, è un colore che ha tanto pigmento. Quindi come diciamo alcune volte durante i corsi è un po' il male, perché bisogna cercare di colorare senza fare dei disastri ed è un po' difficile da gestire. Però per questa cosa che facciamo questa sera è utile, perché in realtà ci fa vedere quanto pigmento è all'interno del colore. Questi colori in realtà per cosa si differenziano? Beh, sicuramente si differenziano per la tipologia di punta. Infatti tipo questo colore, rispetto a un tombo, ha una punta molto più morbida. Vedete che, passandolo sulla carta, si nota che la pennellata non è uniforme perché è proprio più un pennello. Mentre la punta, per esempio, del tombo è molto più rigida. Cioè, passandola sulla carta, il segno è molto più netto. Ok? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente le punte sono differenti, ma che hanno anche un controllo diverso. Per esempio, lo zig, clean color, è molto più difficile da gestire piuttosto che un tombo. Cioè, il tombo è molto più semplice perché ha una punta che è consistente, ma allo stesso tempo flessibile. Infatti, il tombo si utilizza anche per gli esercizi di calligrafia, per i quali sono una frana, no? Quindi, diciamo che è uno strumento molto versatile. Però, la differenza non sta solo nelle punte. Chi ha un pennarello, anche solo un pennarello della Distress, sa che, per esempio, il Distress ha questa punta più rigida, che è ancora diversa rispetto a quella del tombo. Però, vi dicevo, non sta solamente nelle punte. Intanto, sta sicuramente nella gamma dei colori. Io ho realizzato, per i colori per i quali ne ho un po', un tracker dove vado a segnare tutti i colori che ho. E questo mi aiuta anche quando vado a scegliere i colori per capire quali colori abbinare tra di loro. Per esempio, se devo fare una pelle, se devo fare i capelli. Sì, Tiziana, adesso leggo adesso, è colpa tua se hai iniziato a colorare. Però, questa cosa mi ha permesso anche di capire, in realtà, a colpo d'occhio, quanto in realtà siano molto diversi tra di loro questi colori. Questo, per esempio, è il tracker degli Zig. Vedete che ci sono alcuni colori molto brillanti, che nella gamma dei colori tombo non ci sono quasi. Anche il colore più brillante del tombo non è intenso quanto quello dello Zig. Perché, come andremo a vedere, gli Zig hanno molto più pigmento rispetto a un tombo. I Distress hanno delle tonalità, sono queste, hanno delle tonalità molto più polvere. Sono molto più vintage, no? Lo stile di T-Moltz, ovviamente, è questo. Vedete che, per esempio, il colore più vicino al fucsia, che è il raspberry di T-Moltz, non è assolutamente simile, per niente, a quello degli Zig. Cioè, è molto più tenue il colore. Ciao a tutti quelli che sono arrivati adesso. Abbiamo iniziato a chiacchierare, a raccontarci un po' di cose. Ovviamente, la diretta è registrata, quindi, se vi siete persi l'inizio, non c'è problema, perché si recupera dopo. Qui ho anche alcuni colori della Floricolor. Qui vedete un fucsia del Floricolor. È molto più vicino al tombo, come gamma di colori. Anche se, in alcune tonalità, si avvicinano più colori polverosi, più vintage, dei Distress. Quindi, diciamo che sono una via di mezzo. A me piace utilizzare i colori mescolati tra di loro. Perché? Perché se, per esempio, per una serie di colori non ho quel colore lì, posso andarlo a integrare. Per esempio, nei tombo non esiste questo colore, il colore del Distress, del jeans Distress, che è poi quello che è questo. Che è quello che ho scelto per farvi anche gli esempi. Questo cosa vuol dire? Che posso andarli a mescolare. Questa sera, prima di iniziare la diretta, ho giocato un po' con i colori, facendo questi pastrocchi, perché poi alla fine non sono niente altro che questi. E ho creato questa sfumatura. Questa sfumatura l'ho creata con un tombo e un colore Zig. Guardate che belle mani pulite che ho, eh? Sono sempre così, anche quando vado dai clienti, sono sempre piena di colore. Amiamo il colore, diciamo. Va bene. Comunque, quindi, adesso cosa facciamo? Io vorrei con voi andare a stendere il colore, le varie tipologie di colore, sulla carta e farle reagire con l'acqua. In questo modo vedrete come i colori reagiscono con l'acqua e capirete anche se sono facili o meno da gestire, perché se la domanda è quale devo scegliere, beh, innanzitutto dovete scegliere sulla base del livello a cui siete. Se siete dei principianti e state iniziando a colorare, io vi consiglio di iniziare da colori come tombo o i floricolor, perché sono più facili da gestire e li vediamo subito. Io ho iniziato a colorare con i tombo, ok? Se volete un consiglio, non iniziate con questi, perché sono colori bellissimi, ma sono difficili da gestire. A volte mi trovo anch'io in difficoltà. Allora, Giorgia, sì, le schede per organizzare i colori sono disponibili. Io ne ho caricate già alcune nella sezione dei file. Volevo caricarvi questa sera il file dei floricolor, però mi sono resa conto che quello disponibile non ha gli slot per i colori nuovi, quelli che sono usciti da poco. Quindi chiederò a Florilege se hanno la versione nuova e appena ci sarà la versione nuova vi darò anche questi. Trovate quello del Distress sicuramente, quello degli Zig mi pare di averlo caricato ma dopo controllo, e quello dei tombo. Fate questa cosa, quando andate a compilare la scheda, io vi consiglio di stamparla sulla carta acquarello e andare a sfumare il colore. Così riuscite a vedere esattamente tutta la gamma di colore che il vostro colore può darvi. Perché quella è la bellezza dei colori ad acqua rispetto ai colori ad alcol, è che per fare più colori basta un colore, mentre per creare una sfumatura con i Copic servono tre colori, con i colori ad acqua ne basta uno. Quindi questo è il valore aggiunto. Se vedete, facendo questo lavoro della sfumatura, vedete tutti i colori che vi possono dare lo stesso pennarello. Allora, bando le ciance, adesso voglio farvi vedere cosa succede quando si mette il colore sulla carta. Allora, esistono diverse tecniche per colorare. Si può mettere direttamente il colore sulla carta, andarlo a sfumare, oppure metterlo su un blocchetto e aggiungerlo col pennello inumidito e andare poi a sfumare. Sicuramente questa è la tecnica più semplice quando andiamo a lavorare con dei colori che non conosciamo bene o comunque quando siamo all'inizio, perché riusciamo ad usare meglio il colore. Però questa sera non vogliamo colorare, cioè non andiamo a colorare, ma è semplicemente un modo per vedere come regisce il colore. Intanto scusate che leggo Mariella Rana Asic, cos'è? Questo quaderno a spirale è semplicemente un blocco di carta Canson Watercolor, formato A5 con la spirale. Io lo utilizzo per i paciocchi oppure per cose che voglio conservare, nel senso che per esempio qui mi ero fatta ho questa cosa qui, poi mi ero fatta una prima lista di stress marker prima di stamparmi l'altra cosa e quindi se avete delle prove, delle cose che volete mantenere tutti insieme è carino, però si possono anche comunque staccare i fogli. Non è niente di strano, è la solita carta acquerello. Allora, oggi mi sono messa a scegliere i colori e ho cercato dei blu. Quando ho fatto quella prova che avete visto, mi sono resa conto che c'erano dei blu che potevano essere più simili. Ho scelto questo, quello che andiamo a usare adesso è il 528 del tombo, che è il colore jeans, che tombo definisce il suo colore jeans. Allora, vi faccio vedere cosa succede quando reagisce con l'acqua al tombo. Allora, ho fatto così, ho messo direttamente il colore sulla carta, facendo due passate, due righe una accanto all'altra. Ora cosa faccio? Vado a prendere il pennello, qui c'è l'acqua, non so se la vedete, bagno il pennello nell'acqua, e lo asciugo un po' sulla carta, perché questo pennello, essendo grande, trattiene molta acqua. E vado a mettere, asciugarlo un po' sulla mano, io faccio sempre questa cosa per sentire l'umidità del pennello, e vado a sciogliere. Allora, sciogliendo il colore, così con questa quantità d'acqua, che sarà quella che utilizzerò per tutte quante le sfere, vedete che riesco a sciogliere benissimo il colore, aggiungo ancora un po' d'acqua, lo tiro, ok, e questo colore comunque mi lascia una buona quantità di pigmento, di pigmento, come l'ho detto, pigmento. Mi sa che non c'è sabri perché non ho ancora sentito prendermi in giro su come parlo, ma vabbè. Allora, questo è l'effetto, ovviamente sto andando fuori, non mi interessa, è una roba molto mix media. Questo è l'effetto del tombo. Quindi il tombo, se io ci vado sopra, e lo voglio far vedere più vicino, se io vado sopra sul tombo, questo colore riesco a sfumarlo e a tirarlo moltissimo. Perché? Perché il tombo ha una buona quantità di pigmento, ma non tanta, come vedremo avere per esempio questo zig, e quindi riesco a controllarlo bene. Un'altra caratteristica dei tombo, come diceva prima, prima chiacchieravo con Tiziana e mi diceva una caratteristica dei tombo è quella di avere la possibilità di essere riattivati una volta che si sono asciugati. Cosa vuol dire? Che io adesso vado a nanna, lascio qui questa sfera, domani la guardo e mi rendo conto che voglio ancora sfumarla un po'. Semplicemente con l'acqua, con il pennello bagnato nell'acqua, vado a ritoccarla e posso continuare a modificarla. Altri colori, come gli zig, sono diversi, cioè una volta che si seccano non si riescono più ad attivare, è come se il colore penetrasse molto nelle fibre e non si riescono più a riattivare. Questa è una caratteristica interessante dei tombo, è interessante ed è positiva soprattutto quando si sta imparando, perché magari non si è proprio sicurissimi di quello che si è fatto, e quindi si vuole, come dire, avere la possibilità di correggere un po' gli errori, ok? Però è anche una cosa negativa, perché mettete che ci va sopra una goccia d'acqua e il colore si riattiva. Quanto alzi la mano a chi non fa mai casini quando colora, che non rovescia mai l'acqua sulle colorazioni? Io lo faccio spesso, ok? Quindi diciamo che se siete un po' pasticcione bisogna tenerle un po' lontani, le colorazioni con i tombo dall'acqua. Però, altra cosa, con i tombo non si riescono a fare lavori su strati, su strati, su strati. Invece con i distress si può lavorare molto di più a strati rispetto che con i tombo. Tiziana, correggimi se sbaglio, se vuoi integrare, scrivi pure, così noi ti leggiamo. Quindi questa è un po' la cosa che ci siamo detti prima io e Tiziana. Tenetela presente quando andate a scegliere il colore. Vedete, adesso il tombo si sta asciugando e riesco ad avere una bella gamma di colore. Io ho usato molta acqua qui per acquerellare rispetto a come farei per una colorazione di un bambocino o di una bambolina. Però vedete che comunque riesco ad avere una buona gradazione di colore e non ho degli stacchinetti, ok? Vi faccio subito vedere invece un pennarello che proprio non mi piace. Ne ho comprati un paio per provarli ma non sono stati un grandissimo acquisto. Sono degli Zig, sono gli Art & Graphic Twin, cioè per quello che faccio io non mi piacciono. Hanno una punta molto rigida, vi faccio vedere. Sembrano un po' quando li si posano sulla carta i pennarelli carioca. Hanno anche un brutto suono, nel senso che hanno la punta molto rigida. Sentite, lo se sentite. Questo rumore non è Pedro ma è il pennarello. Adesso vi faccio vedere. Ho fatto la stessa cosa che ho fatto prima con i tombo, adesso vi faccio vedere come si sciolgono. Vado per scioglierli. E vedete che fanno fatica a sciogliersi? Hanno intanto meno pigmento. È vero che il colore è più chiaro, però hanno molto meno pigmento rispetto agli altri colori. E se insisto per sciogliere, fanno questo effetto non di sfumatura. Quindi è come se il colore si impastasse. Questo pennarello, io ho provato a usarlo anche per una colorazione vera e propria. È difficile da gestire, da sfumare. E sinceramente io non ve lo consiglio. Cioè non è un pennarello che consiglio a nessuno. Né a chi sa già colorare, né a chi deve imparare. Quindi direi che è meglio optare per altro. Una buona ipotesi invece per chi sta iniziando a colorare sono i floricolor. I floricolor li ho scoperti da poco. Ho fatto un video, questo, questo ce lo faccio qua, sì. Questo qua della volpina. Dove ho utilizzato i floricolor sia per colorare che per fare gli sfondi. Infatti questi floricolor, così come i tombos, sono belli perché hanno questa buona quantità di pigmento che ci permette anche di andare a fare gli sfondi, quindi le macchie. E sono interessanti anche per chi ama il mix media. Allora, che tipo di carta uso per i tombos e che grammatura? Allora, la carta è una carta querello. Io uso questa, che è la Canson Watercolor. La grammatura è un 300 grammi. Ci sono anche altre marche di carta, ne abbiamo provato un paio. Nella passata diretta Sabrina ha provato un'altra marca, c'è un altro tipo di Canson. Era arrabbiatissima perché suo marito gli ha preso quella, poveretto, però non faceva fatica a utilizzare il colore su quella carta. Quindi se avete la possibilità di acquistarla, acquistate questa, che è la Canson Watercolor. Ho risposto? Quando posso ti dico che timbro è questa sfera, certo. Sono questi timbri qua meravigliosi. Si chiama All Create, ho fatto una linea bellissima mix media. In questo set di timbri c'è la sfera, c'è il cuore, c'è la stella. Ci sono delle parole e delle piccole macchie. Sono bellissime per i mix media, ma sono anche carine per creare gli sfondi, per esempio, delle card, dei layout. Questi sono i timbri che sto usando. Allora, adesso guardiamo quindi questi Floricolor. I Floricolor, come vi dicevo, sono delle new entry. Io comunque mi sono messa tutto qui e adesso non riesco a muovermi, ma tanto voi siete molto pazienti. Allora, intanto i Floricolor hanno una gamma di colori che mi piace molto, perché hanno dei colori che sono bibi, ma hanno anche un tocco un po' vintage. E quando si asciugano rimangono molto brillanti, molto più brillanti dei Distress, che sono i colori vintage per eccellenza. Cioè, mentre i Distress diventano polverosi quando si asciugano, i Floricolor invece mantengono una bella luminosità. Quindi vale la pena provarli. Allora, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima con gli altri colori. Sto colorando in modo un po' scomodo, però non importa, tanto devo solo sciogliere. Andiamo a sciogliere il colore. Faccio come ho fatto prima con i tombo. Allora, se vedete, anche questi, come i tombo, si sciolgono bene. Hanno una buona quantità di pigmento, quindi mi consentono di portare il colore in giro per un po'. Però non mi lasciano la linea di stacco come mi lasciava questo qui, questo orribile colore. Spero che non ci sia nessun fan dell'Art & Graphic che ci ascolta. Questo, troppo stella, ti piace questo Floricolor? Della Floricolor? Questo della Floricolor è il colore denim. Ed è il numero FD716 di Florilege. Ecco, questa cosa che ha detto troppo stella mi fa venire in mente una cosa. Allora, questo è il denim della Florilege. Quello che andremo a usare dopo, questo invece è il jeans, il colore denim della Distress. Vedrete come sono diversi. Questo è importante perché in realtà vi permette di capire quanto i colori siano diversi. Quindi il fatto di voler andare a integrare con un colore di una marca un'altra gamma di colori è una cosa intelligente. Ovviamente è un pochino complicato andare a mischiare colori di tipi diversi perché come abbiamo visto hanno caratteristiche diverse. Ma una volta che avete preso un po' la mano con i vostri colori potete farlo tranquillamente. Allora, questo è l'effetto tombo. Questo è l'effetto dello zig Art & Graphic che vogliamo dimenticare. Questo è l'effetto del Floricolor. Vedete che bell'effetto vintage sfumato che hanno. Quindi, che dire, se vi piacciono i colori un pochino più manga, sicuramente il tombo è il vostro. Se vi piacciono i colori un pochino più vintage, il Floricolor invece è quello che fa per voi. Questo, se siete a un primo livello, potete usarli tranquillamente senza andare a sbagliare. Ok? La gamma colori sta crescendo, cioè il tombo sono 96 colori. La gamma colori del Floricolor sta crescendo, però avete tutti i colori che vi servono per andare a colorare, dalla pelle ai fiori, qualsiasi cosa. Quindi questo è l'effetto Floricolor. Poi, se volete, vi faccio delle foto e ve li vedete con calma. A cosa non ho risposto? Allora, tra Floricolor e Roger Tombo cosa consiglio per iniziare? Ecco, quello che vi stavo dicendo, se amate la colorazione più manga, scegliete i tombo. Se invece vi piacciono i colori un pochino più vintage e polverosi, potete, ho detto il contrario. Tombo per il manga, Floricolor per i colori più vintage. Scusate, ma do un po' i numeri, sono un po' i numeri, oggi è stata una giornata un po' pesante. Se non sono chiara, ditemelo che ripeto. Quindi, Rossella, vedi tu, nel senso che Tiziana ti dice i tombo. A Tiziana devo far provare i Floricolor, perché Tiziana mi sa che non ha mai provato i Floricolor, giusto, Tiziana? Mi sembra. Ecco, i Floricolor hanno la stessa resa del tombo. Qui è solo una questione di gusto. Una cosa che puoi fare è provare a prendere alcuni tombo, alcuni Floricolor e mescolarli insieme. Soprattutto andando a scegliere tra la gamma dei colori. Magari ti piace di più questo è il jeans dei tombo, ti piace più il jeans di Floricolor, quindi prendi il jeans di Floricolor. Quindi per ora abbiamo provato questo, questo e questo, quindi questo, no. Questi, sì, Floricolor e tombo. Andiamo dai Distress. I Distress sono un mondo a parte. Io ho scelto, quindi per i penarelli, il jeans. Per l'Oxide, perché molti mi chiedono spesso, ma posso colorare con gli Oxide? Sì, si può colorare con gli Oxide. Non sono dei veri colori ad acqua. Reagiscono all'acqua, ma non sono dei veri colori ad acqua. E poi ho preso questo, lo Stormy Sky, perché non ho questo colore nei tamponi. E ci sono poi anche gli ink. Ok? Quindi, con i Distress abbiamo un attimo da fare. Io magari sposto questo prima di fare un casino colossale. Allora, inizierei col pennarello. La cosa che mi ha sconvolto la prima volta che ho colorato con i vari tipi di Distress è che mi sono resa conto che in realtà, pur avendo lo stesso colore, avevo dei risultati totalmente diversi. Quindi, questo è il Distress Marker. Questo è il Reinker, cioè le goccine. Questo è il Distress Oxide e sono tutti e tre gli stessi colori. Vedete qual è la differenza? Questo è l'Oxide, che ha una finitura un po' strana, quasi lunare. Questo è il Reinker, cioè ha molto pigmento. Il Distress Marker sembra quasi un altro colore. Quindi, è vero che il colore è sempre lo stesso, ma in realtà la resa non è la stessa. La resa è un po' differente. Allora, andiamo prima dal pennarello. Poi succedono a volte delle cose strane. L'altro giorno, due sabati fa, Mariella mi ha fatto vedere che ha due pennarelli della Tombo, stesso numero, colori diversi. A volte possono succedere anche queste cose. Clelia e i Floricolor. Allora, Clelia non credo abbia attualmente i Floricolor, però sicuramente essendo... cioè rivendendo Florilege può avere i Floricolor. Tu hai cominciato Tania con i Distress perché c'erano solo quelli. In realtà i Tombo ci sono da 40 anni, vengono utilizzati nelle scuole, perché appunto hanno queste caratteristiche, no? Quindi sono facili da utilizzare, hanno una buona resa e quindi nelle scuole vengono utilizzati tanto. Tu, Tania, hai iniziato a colorare con i Distress e quindi probabilmente sei già brava, sei più facilitata a gestire altri colori, perché soprattutto se tu colori con le goccine, Tania, tu colori con le gocce, con i pennarelli, con i tamponi, poi dici come cosa colori, così capiamo meglio quanto tu sia avanti rispetto a noi. Allora, perché? Perché comunque le goccine hanno tanto pigmento e quindi sono i rinker, avendo tanto pigmento sono un pochino più difficili da gestire, bisogna metterne davvero poco. Con le gocce, ecco, con le gocce, quindi vuol dire che tu già sei abituata ad usare molto bene il colore. Non dovresti avere difficoltà, per esempio, a passare a questi. agli Zig, perché anche loro hanno tanto pigmento, ma avendo imparato con... Tania vado sola. Avendo imparato con le gocce, riesci tranquillamente a gestire anche quelli. Adesso vi faccio vedere il pennarello. Allora, il pennarello... Faccio un po' fatica a colorare dritta e quindi mi metto tranquillamente storta. Allora, col pennarello metto la stessa quantità di colore che ho messo prima. Allora, vediamo cosa succede. Lascio qui così, è chiaro che stiamo usando lui. Asciugo un po' la carta e vado a sciogliere. Vedete quanto pigmento già qui c'è? i Distress si sciolgono molto bene. Diciamo che comunque rispetto a... ad altri... cioè, come dire... rispetto ad altri colori a pennarello sono molto più semplici da sciogliere. Nel senso che è difficile che rimangano delle righe. rimangono molto meno le righe rispetto anche al tombo. Ok, quindi diciamo che il Distress ha questa... questa sua capacità di sciogliersi pazzesca. Ha una bellissima resa sulla carta. E non per niente moltissima gente colora con... cioè, colora con i Distress, no? Perché comunque hanno un'ottima resa. Però, avendo molto pigmento anche i pennarelli sono un pochino più difficili da gestire piuttosto che i tombo o i floricolor. Infatti, quando vi prendete all'inizio il pennarelli di Distress l'ho detto anche alle ragazze che hanno fatto i corsi con me quando non conoscete bene un colore mettete un po' di colore sul blocchetto così pennello bagnato e andate a prendere il colore da lì così riuscite ad aggiungerlo un po' per volta. Vedete che anche facendo così comunque ce n'è tanto cioè, il pigmento è importante, no? Però, vedete ho fatto in questo modo e mi trovo ad avere meno colore se voglio intensificare il colore vado ad aspettare che asciughi un pochino e poi vado a ripetere appena si è asciugato un po' per andare ad aggiungere colore. Quindi, quando avete un pennarello nuovo e non sapete bene gestirlo oppure vi mette un po' in difficoltà mettete il colore sul blocchetto e avete risolto. Stessa cosa vale per questi che sono molto più difficili degli altri da gestire. Questo quindi è il pennarello magari lo scrivo sotto guardate, scrivo tombo poi questo qui invece è l'art scrivo come una gallina però voi cercate di capire invece questo è il floricolor ok questo invece è il distress marker ora vi faccio vedere cosa succede con l'oxide per l'oxide cosa faccio? prendo il panetto lo spatascio qua sopra e vado a prendermi il colore con il pennello metto lo metto qua quindi asciugo il pennello prendo il colore e lo vado a depositare vedete quanto quanto pigmento c'è nell'oxide ecco l'oxide a noi piace tantissimo perché riusciamo a coprire riusciamo a timbrare questo vuol dire che c'è tanto tanto pigmento non sono semplici inchiostri sono inchiostri pigmenti quindi abbiamo tutta questa quantità di ovviamente ve lo sconsiglio soprattutto alle prime armi per colorarci vestiti di bambuccini e cose varie perché vedete qual è la resa però per il mix media per colorazioni di questo tipo dove abbiamo a che fare con elementi grandi che possono essere molto acquerellati l'effetto è fighissimo cioè è molto bello almeno non so a voi piace a me piace tantissimo io lo trovo bellissimo vedete che ecco guardate un attimo la consistenza del colore sul blocchetto ok guardatela memorizzatela adesso vi faccio vedere invece il distressing che cosa fa allora togliamo e andiamo a provare questo questo non è lo stesso colore è un pelo più chiaro ma è pochino più chiaro lo vado aiuto a spattasciare sul blocco ecco questo è un ink ok non ha dentro vedete che non rimane come l'oxide infatti questa resa si avrà anche sulla carta la cosa che voglio farvi un attimo notare è che questo colore e questo colore sono lo stesso anche questo con una sola passata quindi questi due colori sono gli stessi pur essendo la stessa famiglia in realtà sono diversissimi adesso vado a mettere il colore invece del pad di questo qua sopra ovviamente c'è molto c'è ancora tanto pigmento rispetto ad altri colori come andremo a vedere per esempio l'extreme l'extreme ink di Tommy però quando lo vado a sciogliere l'effetto è tutta un'altra cosa quindi se l'idea è vabbè o gli oxide oppure o gli oxide non mi servono gli ink di stress ink e non è vero quindi non sono sostitutibili cioè sostitutibili non è una parola non sono sostituibili perché in realtà fanno due cose totalmente diverse ci può essere un po' la confusione di uno piuttosto che l'altro in realtà qua vedete che l'effetto è il diametralmente opposto quindi abbiamo in questo caso un colore più intenso intenso per gli oxide quindi questi sono gli oxide e invece questo è il distress ink pad adesso andiamo a prendere il jeans sotto forma di goccine quindi di ink quelli che usa Tania e qui se non si sta attenti se si è abituati ad avere la mano del pennarello si fa un po' cioc giusto Tania? è vero? è vero? sì gli oxide li amiamo tutti a prescindere perché le cose che si fanno con gli oxide non si possono fare assolutamente ehm anche in tutta la vita non si possono fare assolutamente con 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 gli altri quindi allora vado a prendere una punta di metto qua così vedete questo è il jeans ne prendo una punta avete visto quanto ne ho preso? vado a metterlo sulla carta guardate quanto è intenso il colore e ne ho preso una punta con il pennello bagnato ok ne ho preso davvero poco perché so cosa succede se metto la stessa quantità di colore che ho messo prima cioè faccio due passate e poi vado a sciogliere sciolgo fino a domani il colore guardate quanto pigmento c'è ecco questo per dirvi che chi è abituato a colorare con le gocce e i rinker degli oxide è abituato a gestire grandi quantità di colore ok poi ovviamente non essendo secchi come i pennarelli ma essendo già ovviamente umidi ok bisogna andare a gestire ancora meglio la quantità d'acqua del pennello quindi io sto facendo l'esercizio mantenendo sempre la stessa quantità d'acqua sul pennello per farvi vedere effettivamente quali sono le differenze ma quando si va a colorare con le gocce che già dentro hanno molta acqua bisogna avere il pennello quasi asciutto bisogna avere molta pazienza infatti come dice anche Tania e aggiungere gli strati di colore quindi quando si va a colorare con i distress gocce si va a colorare a strati sicuramente è un po' un battesimo del fuoco se si impara a colorare con quelli poi si colora facilmente con tutto però diciamo che se si vuole imparare a colorare in modo meno traumatico forse è meglio iniziare con i pennarelli come diciamo prima con pennarelli che si si sciolgono bene che ci danno una buona resa ma che sono un pochino più facili da gestire altra cosa che vi faccio vedere adesso è questo come dicevamo il male no in realtà sono bellissimi questi colori io ho colorato non li ho usati tanto ho fatto una colorazione appena mi erano arrivati e poi ho fatto questa che avete magari visto l'effetto a me piace molto sono molto belli sono un po' difficili da gestire ho trovato però che utilizzandoli con lo stile copic cioè utilizzando il colore più chiaro per sciogliere il colore più scuro utilizzando questa tecnica si riescono a sfumare bene quindi vado a utilizzare invece dell'acqua l'altro colore è un po' difficile quindi bisogna prenderci un po' un po' la mano vi faccio vedere cosa succede quando si mette questo colore sulla carta allora intanto bisogna dare più pennellate perché è proprio un pennello e non è omogeneo come si avrebbe con una punta in feltro più rigida adesso vado a fare quello che ho fatto negli altri casi perché dobbiamo fare sempre il paragone il paragone si fa patate con patate carote con carote quindi metto la stessa quantità di colore che è quella che ho messo per il tombo adesso vado a sciogliere questo popò di colore ce n'è un bel po' guardate un po' quanta roba cioè vedete tutta adesso so tutta questa roba qua cioè vedete quanto sono intensi quanto permane il colore diciamo che non è robetta da poco quindi questo colore va messo in quantità minime se volete metterlo direttamente sulla carta dovete avere dovete usare quantità minime altrimenti vi trovate in questa situazione pensate se nel caso della tilde di prima che era piccolina con dei dettagli se mettete tutto questo colore alla fine non riuscite più a gestirlo ed è un dramma che dovete buttare tutto quindi quando il colorato è all'inizio fate delle prove di piccole quantità di colore e come ho fatto io la prima volta mettete eventualmente il colore sul blocchetto e lo andate a prendere col pennello in questo modo non rischiate la morte nera che è successa qua vedete comunque che bella che la gamma di colori quanto sono intensi e profondi c'è questo blu pur amando i distress pur amando i tombo pur amando tutti i colori che abbiamo provato tranne lui che è il male ha un'intensità di colore che nessun altro degli altri colori ha quindi vi permette di creare anche degli effetti un pochino più drammatici di colore senza dover fare troppe passate senza andare c'è come se il colore stesso avesse all'interno tutti i colori per creare la sfumatura e le gambe di colore e non è brutta come cosa un'altra cosa che voglio fare prima di passare agli acquarelli tradizionali oggi abbiamo i kuretake gansai tanbi che non so se l'ho detto bene perché è giapponese e poi i colori metallici della prima marketing allora volevo provare questo di Tommy link Tiffany per colorare ho visto che alcuni di voi mi pare Barbara le utilizza tantissimo Barbara Pallaro per colorare anche oggi diceva qualcosa su mi pare su una colorazione con questi con i colori bisogna prenderci coloro la mano perché essendo colori spray sono nati per essere spruzzati essendo nati per essere spruzzati devono essere già molto diluiti quindi anche qui bisogna colorare facendo diverse passate adesso vi faccio vedere vedete allora ovviamente qui io non ho usato quasi l'acqua il pennello l'ho usato quasi asciutto in questo caso perché se vado a tenere l'acqua come negli altri casi adesso vi faccio vedere il colore rimane debole questi colori non sono nati per colorare quindi potete sicuramente farlo però sono più adatti per fare per esempio degli sfondi quindi queste sfere se vogliamo le facciamo asciugare il colore poi andiamo a metterne dell'altro ok fin quando teniamo l'intensità che ci piace ovviamente l'intensità non sarà oltre questa no non può scurirsi oltre questo perché questo è il colore cioè il colore avrà questo colore massimo non potrà essere più scuro ok è normale che questi colori anche quelli scuri tipo il blu rimangano comunque molto diluiti però se li avete e volete realizzare degli sfondi utilizzando il pennello sicuramente lo potete fare quindi si acquarella molto adesso vi faccio vedere invece questi che ho messo prima per terra scusate ho fatto tremare tutto allora potete sapere che io ho un tavolo di un metro e ottanta però non mi basta allora questi sono bellissimi questa roba qua è bella solo da vedere non so se siete d'accordo sono meravigliosi i colori di questi acquarelli sono questi qua io direi che questo che è scritto numero 67 è quello che si avvicina di più agli altri colori che abbiamo utilizzato quindi io andrei se riesco ad aprirli scusate ho fatto un disastro ma voi mi vorrete bene lo stesso andiamo a utilizzare questo speriamo che non arrivi Pedro nel frattempo perché se no si prende tutti i colori oggi è una giornata disastrosa per me quindi sono abbastanza incarinata faccio un sacco di pasticci oggi però va bene allora come si usano si mette si ho fatto una cosa tipo domino quindi è caduto tutto però poi li mettiamo a posto non è così drammatico allora si mette un po' di colore dentro l'acquerello si fa reagire il colore e si va a mettere sulla carta io qui asciugo bene il pennello perché ovviamente avendo messo l'acqua dentro la pastiglia di colore ho il colore già molto umido lo vado a mettere qui sopra nella stessa quantità dei tombo e poi asciugo il pennello lo bagno lo asciugo cioè mi tengo una quantità d'acqua non esagerata vado a sciogliere questi sono proprio gli acquerelli classici e sono fatti per essere acquerellati quindi qui l'acqua c'è amica l'effetto sono andata fuori ve lo faccio vedere è questo quindi proprio quello classico dell'acquerello questi acquerelli rispetto ad altri hanno moltissimi pigmenti allora il pennello che sto usando è un numero 10 è un pennello da sfondi qui come dicevamo Valeria stasera non dobbiamo colorare dobbiamo andare a provare l'effetto quindi non mi interessa stare nei bordi non mi interessa troppo non mi sono fatta male ho solo fatto un casino quindi adesso un po' di casino per terra ma non importa se non arriva a pedro è tutto a posto sì è un 10 esatto quindi no ci serve per questo pennello per fare cosa per fare gli sfondi per colorare superfici molto grandi o per fare anche queste cose un po' mix media dove no non ci interessa anzi se andiamo fuori dei bordi meglio perché lo scopo è quello di andare a querellare io qua voglio sciogliere tutto il colore e farvi vedere in realtà anche sciolto tantissimo quel po' di colore quanto mantiene il pigmento pur essendo un acquerello tradizionale quindi diciamo che questi sono gli acquerelli per chi ama proprio la tecnica dell'acquerello che non è quello della colorazione dei bamboccini che facciamo noi o delle bamboline perché lì in realtà sono colori acquerellabili che vengono dilubiti con l'acqua ma non si va a usare tutta quest'acqua perché l'effetto non è quello della macchia dell'acquerello questi colori sono ideali per fare invece quella roba lì quindi se vi piace quell'effetto per gli sfondi per andare a colorare cose molto acquerellate ho visto ho visto ieri un progetto per esempio di Miranda dove ha creato uno sfondo molto acquerellato per una glimpse ecco per fare quell'effetto si usano questi colori non si vanno a usare i pennarelli tombo ok altri colori simili sono questi metallici della prima marketing è caduto ancora un altro colore che era qui va bene sono come i classici acquerelli che abbiamo visto prima però hanno un effetto metallico andiamo sempre a usare un blu ok quindi si va a mettere l'acqua sulla pastiglia si aspetta che c'è l'acqua praticamente nell'acquerello tradizionale cosa deve fare deve entrare all'interno del pigmento della pastiglia e la pastiglia deve avere una consistenza cremosa quando ha assorbito l'acqua e la consistenza è diventata cremosa allora l'acquerello è pronto che marca è Alessandra no aspetta chi mi chiede Alessandra Matta Alessandra intendi il pennello se intendi il pennello il pennello è un tintoretto se invece non intendi il pennello dimmi che cosa intendi così ti rispondo allora vado a prendere il colore lo metto qui nel bordo ho detto bordo Sabrina detto bene ok e poi lo vado a sfumare questi hanno un effetto qui dice metallico a me sembra più che metallico sembra perlato ho fatto un po' di tempo fa durante una demo degli esperimenti dove ho usato questi perlati che secondo me sono bellissimi per dare dei tocchi di luce quindi cosa ho fatto tipo in questo io ho usato il jeans dei di stress il pennello ok e poi sono andata a passare sopra con il blu il nero qui per creare l'ombra e il bianco dei metallici ancora in questo caso cosa si può fare si possono andare a mescolare i colori e creare queste colori qui quindi queste questi sono i perlati cioè metallici con sotto il tombo in questo caso il distress in questo caso questo anche è distress anche questo è un distress quindi si vanno a sovrapporre i perlati quelli che sto usando adesso che colori sono questi Alessandra questi sono i metallici i metallic della prima marketing sono fighissimi costano tipo una quindicina di euro tutti quanti e riescono a darvi degli effetti molto belli anche di finitura per esempio per i vestiti ma anche appunto per queste cose in mix media queste che io ho fatto per esempio le ritaglierò penso di ritagliarle e andrò a farci gli sfondi per una card per un layout sono davvero cangianti non so se riuscite a vedere si riesce a vedere? che cangiano guarda questi questo è la confezione io questi li ho presi da Clelia quindi in questo caso abbiamo già visto un primo esempio di sovrapposizione quindi un'altra cosa che voglio fare per farvi capire quello che dicevo prima con della durevolezza del pigmento è questa prendiamo un pezzo di carta così non andiamo a sprecare quella se io metto qui questa quantità di zig la stessa quantità di distress e stavo per fare un altro disastro voi non l'avete visto stavo lasciando tutta l'acqua sul mac ma voi non l'avete visto quindi tutto a posto la stessa quantità di tombo bagno pennello asciugo pennello e vado a sciogliere vediamo che succede cioè vediamo fin dove arriva questo pigmento cioè è una roba questo rumore che sentite se lo sentite sono i miei pennare tutti i miei milioni di pennarelli che tremano quindi vuol dire che ne ho un po' allora questo è quello che fa la zig potremmo andare ancora avanti cioè questo per farvi capire quanto pigmento c'è adesso proviamo con il distress il distress ha meno pigmento vedete che qui io l'ho sfumato dall'inizio sia questo che questo però il distress si è sciolto molto di più quindi questa cosa per farvi capire un po' quello che quello che volevo dire prima adesso proviamo col tombo dove li compro costano meno di quelli normali stiamo parlando degli acquerelli metallici gli acquerelli metallici sì in questo caso questi acquerelli costano poco gli acquerelli invece quelli che abbiamo visto prima la confezione quella che ho rovinosamente buttato a terra della curetache costa sui 40 euro i pennarelli tombo costano sui 4 euro qualcosa l'uno i floricolor più o meno la stessa cifra stessa cosa vale per i distress i zig sono un pochino più costosi però anche di questo ne parlavamo oggi con Tiziana ovviamente i colori sulla base di quanto pigmento hanno costano ok quindi dipende anche un po' da questo il distress quindi avete visto che ha comunque tanto pigmento ma non mantiene il colore così come lo zig quindi lo zig è un colore che è veramente tanto pigmentato molto molto pigmentato cioè guardate ecco questa è la situazione quindi abbiamo zig distress e tombo ok voglio farvi vedere ancora una cosa se riesco a trovare un pezzettino di carta no niente lo faccio qui su questo angolino qui voglio farvi vedere come si possono mescolare due tipologie diverse di colore cioè tipo in questo caso io ho usato il tombo e poi qui vado a mettere lo zig zig distress si te lo ridico allora sono zig distress e tombo ciao le linea tag tanto puoi recuperare perché c'è c'è la registrazione quindi non ti preoccupare non piangere allora adesso invece andiamo a vedere come mescolare insieme questi due colori allora io vado a sciogliere lo zig vado a sciogliere il tombo e poi faccio un'opera di avvicinamento piano piano mi avvicino e li faccio fondere tra di loro in questo modo ho creato semplicemente una sfumatura ma questi due colori hanno reagito insieme questa cosa con i colori ad alcol non potete farla perché ogni colore ad alcol è a sé ogni colore ad alcol ha una sua quantità di alcol all'interno delle una composizione differente senti un po' restiamo in diretta fino a mezzanotte e via si se volete si se non avete niente da fare io sto qua non ho problemi perché siamo siamo stati un po' lunghi è vero abbiamo iniziato alle 9 sono le 21.55 i metallici prima marketing quanto costano costano sui 15 euro se non sbaglio più o meno così allora adesso faccio un'altra cosa vado a prendere questa pastiglia che avevamo già sciolto e vado a passarla sopra e la sfumo così vi faccio vedere anche la sovrapposizione ovviamente questo colore va a scurire quello sopra quello sotto scusate però lo posso fondere quindi avrò questo lato dov'è? qua che è sberlucicoso rispetto a questo qua che invece non lo è però la mia colorazione in realtà semplicemente scurendo un po' il colore posso andarla a farla sberlucicare oppure posso aggiungere e posso dare delle punte di colore col bianco per esempio cioè questa zona qua guardate cosa succede e niente abbiamo fatto le nuvole insomma questa è una meraviglia ok ok ciao Katrin ciao chi è arrivato adesso ecco quindi per farvi capire se voi avete dei colori a casa colori ad acquerello acquerellabili potete giocarci e fare dei tentativi delle prove e vedere cosa succede ovviamente quando fate queste prove non colorate cioè non fatele sulla colorazione della vostra vita prendete della carta e e giocate ok è vero è vero se siamo in diretta scusate se siamo in diretta fino a mezzanotte festeggiamo Tiziana perché a mezzanotte è il suo compleanno ok questo è un po' quello che volevo farvi vedere questa sera avete per caso delle domande volete vedere qualcosa siete incuriositi da qualcosa avete deciso quale 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 colore fa per voi cosa cosa vi piacerebbe provare a questo punto ditemi io sono qua vi aspetto Katrin le ha tutti quindi non ha non ha più bisogno di comprare nulla a tutto quanto anche se in realtà nuovi bisogni nascono continuamente gli acquamarkers non non li ho mai provati non so se qualcun altro li ha già provati io non non li ho mai provati vedete tutti perché Sabrina mi ha mandato un messaggio disperato qualche minuto fa dicendo che lei non vede più voi vedete si vede Sabrina tu ci sei tornata aspetta che le scrivo mi ha mandato un'immagine astratta di quello che sta vedendo in realtà ho fatto dei pastrocchi ma non ho fatto quelle cose quindi per fare un attimo di recap su quello che abbiamo fatto per chi è arrivato adesso questa sera abbiamo provato differenti tipologie di colore abbiamo provato i distress marker i reinker le goccine non le muovo perché sennò faccio casino poi abbiamo provato gli oxide che sono qua abbiamo provato i distress ink pad abbiamo provato i tombo che ce l'ho in mano abbiamo provato gli zig che sono questi abbiamo provato i floricolor gli art and graphic abbiamo provato l'ink di Tommy vediamo che speriamo che sia chiuso perché sennò faccio casino abbiamo provato i curetacche che ora sono nel mio posto il mio pavimento e abbiamo provato i metallics i curetacche abbiamo usato questi e abbiamo provato i metallics e abbiamo ottenuto degli effetti totalmente diversi quindi abbiamo capito che dobbiamo sostanzialmente averli tutti almeno io ho capito che devo averli tutti leggo un po' quello che state scrivendo le matite acquerellabili per vedere la differenza allora in questo momento non ho qui le matite acquerellabili dovrei fare un po' di casino però possiamo poi eventualmente fare una una diretta solo su sulle matite acquerellabili è molto divertente vedere quello che Sabrina sta postando cioè quello che sta vedendo e mi sta mandando in privato lei vede dei Pollock praticamente mi piacerebbe essere così brava ma non sono Pollock lei però vede Pollock non lo so le scrivo di riavvia ok curetac sul pavimento sicuretac sul pavimento sono un must ve lo farei vedere ma devo spostare la a mio pollo perfetto si la abbiamo anche noi fantastico allora Rimini Ink hai visto non so se hai visto questo è l'effetto si l'hai visto tu c'eri già quindi questo è l'effetto dei ink una colorazione molto molto tenue dei metallics si della prima marketing esiste solo questa palette ci sono altre marche che fanno questi colori penso alla Zig che faccia faccia anche lei altri metalli dei metallici dei perlati che hanno altre nuance di colore hai più oro hai più forse Tiziana li ha puoi mettere a fuoco l'immagine per leggere questa qui dei metallics intendi aspetta che mi alzo così vedo se è a fuoco questi sono i colori che ci sono dentro sono 12 colori ecco qua Katrin stai dicendo scusa scusate mi sono incantata perché stavo leggendo sono usciti i nuovi i nuovi di che marca di cosa i metallics pastel sì quelli della curetà che ho visto ce ne sono però dentro mi pare 6 sono 6 per ogni palette costano molto di più rispetto a questi questi ve li consiglio perché hanno un ottimo rapporto qualità prezzo con 15 euro appunto circa ne avete dentro 12 e 12 di diverse tonalità di colore perché questa cioè mentre negli altri della curetà che ci sono tutti i colori in once tipo tutti d'oro tutti i dorati qualche colore qualcuno di voi li aveva presi se non ricordo chi ma li aveva fatti vedere invece qui avete un po' tutti i colori che potete usare per andare per esempio a rendere metallici perlati altri colori che avete già quindi magari come dire per provare per iniziare mi mandi l'ho fatto in pvt si se vuoi poi pubblicala magari anche nel gruppo così la vedono poi anche o anche nei commenti così rimane nella conversazione chi ne va a cercare li trova se puoi Katrin grazie esatto sei sfumature dorate sei madreperlati però sono sfumature quindi sono tutti in nuance qui invece avete diciamo un colore per nel senso che se volete fare le ombre col nero c'è il nero c'è il blu c'è un fucsia c'è un viola il tiffany che ci deve essere sempre questo verde che in realtà non è un verde ma è quasi un tiffany e questi si ti servono Francesca questi sono fighissimi all'inizio io non li volevo poi ho visto una colorazione di Sabrina che li ha usati per fare dei vestiti ad una sua bamboccina e quindi ho deciso che mi servivano assolutamente scimmera forse lo stesso effetto gli shimmering sì allora qui c'è un po' questa questione del perlato bisogna capire anche un po' qual è la consistenza durante una demo noi abbiamo provato a usare le paste queste sono le paste della nouveau che sono le mousse della nouveau che sono perlate alcune le utilizzano anche per colorare per fare degli sfondi per fare sfondi sì per colorare non si può nel senso che io ho provato a usare per colorare a parte che non si stendono e poi vi rovinano i pennelli quindi non so non potete usare il classico vostro pennellino per colorare così con questi con questi colori cioè anche come dire potete colorare potete provare a colorare con qualsiasi cosa poi l'effetto che ottenete è diverso dalla base del media che state utilizzando in questo caso come vi dicevo abbiamo un materiale che si asciuga che non reagisce con l'acqua tipo le paste della nouveau che reagiscono con l'acqua fin quando sono bagnate appena seccano diventano resistenti dall'acqua quindi se io faccio mi smentirò ho spruzzato l'acqua non si muovono vedete questa è una pasta della nouveau se io faccio questa roba qua metto tanta tanta acqua su questa roba che era un acquerello il colore si sposta art attack questo è il momento art attack i metallic label non so cosa siano ci sono anche gli ok quindi no non so cosa siano poi se vuoi farci vedere i shimmering e i metallic label noi siamo qua per guardare per imparare ecco su timbro scrapmania sono finiti i metallici potete provare anche in altri store credo che non so se Clelia ne è ancora io sto cercando di spostare la sedia per mettere a posto i miei acquerelli perché odio vederli per terra adesso anzi vi faccio vedere il casino che ho combinato così prendete un po' in giro ho fatto questo questo è quello che è successo ai miei acquerelli quindi quando chiuderemo la diretta metterò a sistemarli non è successo niente non si sono rotti farò un po' fatica a ordinarli perché dovrò guardare lo schema di fianco visto che non so interpretare bene gli diagrammi ma li metteremo a posto c'è Clea anche collegata io non la vedo Clea ci sei ancora? ci sei? cioè ci sei? comunque Clea ho visto che qualche giorno fa li aveva non so se li ancora perché da Clea una cosa c'è in questo istante tra un secondo e mezzo non c'è più quindi dovete un attimo hai visto troppo stella che casino che ho fatto bene ho fatto ma io lo sapevo mentre li toccavo che sarebbero caduti e quindi ho agito lo stesso allora io non so se avete altre delle domande sono qui altrimenti credo di avervi tediato abbastanza per stasera e quindi direi che possiamo chiudere ditemi voi se avete delle domande ci sono siamo qui altrimenti vi saluto e quindi Grazie a tutti